Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina d'asino al collo e venga gettato nel mare. Le parole di Gesù sono chiare e non lasciano spazio a dubbi. Chi viene gettato in mare con la macina d'asino al collo è destinato a morire annegato, rimanendo sprofondato negli abissi di quel mare. Gesù è durissimo nel suo parlare, come mai lo è stato in nessun altro passo riportato nei Vangeli. Da questo suo parlare tutti noi comprendiamo che non c'è peccato più grave di quello di chi scandalizza, di chi abusa, dei piccoli che in Lui credono, di chi abusa di quei bambini che nella loro innocenza si fidano e sono stati affidati a uomini e a donne che per il mondo sono i consacrati di Dio, ma che nella realtà sono demoni. Chi si consacra veramente a Dio non può commettere un simile crimine. Solo chi è preda dello spirito demoniaco può abusare dei piccoli. Per questo Gesù è così duro e netto nel suo parlare. Per questo Gesù dice che sarebbe meglio per loro essere messi a morte prima, in questa vita terrena, piuttosto che perire per l'eternità, dopo aver rovinato per sempre l'esistenza di tante vittime innocenti e dei loro familiari. Questo linguaggio di Gesù oggi da tanti non è più compreso né tantomeno accettato. Troppo duro. Nella Chiesa e nella società i buonisti e i buon pensanti hanno preso il sopravvento, facendo perdere a tanti il senso della vera giustizia, sia umana sia divina. Per questo le parole di Gesù oggi ascoltate ci obbligano ad interrogare la nostra coscienza e a riallineare il pensiero e il giudizio a quello del Maestro. Dio è sì buono, ma è anche giusto. Non vi può essere vera misericordia se viene meno la giustizia. Questo vale per tutti, istituzioni e singoli cittadini. Tanti hanno perso la fiducia nelle istituzioni perché in tanti popoli e nazioni è venuta meno la giustizia. Così è anche e soprattutto per la Chiesa. Perché se tanti si guardano nel mondo dal tradimento di chi vi opera, nella politica, negli affari e così via, così non ci si aspetta che avvenga per coloro che sono uomini e donne di Chiesa. Ma l'abito, come sempre si dice, non fa il monaco. Si è prima uomini e poi cristiani. Questo vale per tutti. E' il cuore e la volontà a fare la differenza, per tutti. L'abito può essere anche bianco. Ma se il cuore è nero e la volontà è quella di fare il male, si cade e si perde l'amicizia con Dio. Si perde l'alleanza con Dio. Questo ci insegna la storia. Nella Chiesa di Roma gli insegnamenti fondamentali di Gesù sono stati brutalmente calpestati. Quella casa ha toccato il fondo. Ma nonostante ciò, con ipocrisia e arroganza continua a pontificare su ciò che fa comodo. Mentre su ciò che non è comodo si preferisce fare silenzio. E si dice che è meglio fare silenzio. Pregare e fare silenzio. Ma quando si vuole parlare e fare la morale agli altri non si fa silenzio. Si parla e come? Dicendo a tutto e a tutti che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare. Impartendo lezioni a governi e a singoli cittadini. Perché così abituati a fare. Perché così abituati a governare tutto e tutti. Mentre al proprio interno si continua a commettere ogni abominio, ogni delitto, anche quello vergognoso contro i piccoli. Il cancro della pedofilia ha devastato l'intero corpo della Chiesa di Roma. Già con grandi difficoltà Giovanni Paolo II ha condotto la Chiesa nel terzo millennio. Prima di divenire pontefice, Benedetto XVI, dopo aver denunciato già prima le difficoltà che incontrava nel suo ruolo nella Via Crucis del 2005, quella del venerdì santo sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, ha denunciato la sporcizia presente nella Chiesa e tra i sacerdoti, parlando già allora chiaramente del tradimento a Cristo che si consumava all'interno del cortile di Roma. Dopo questo, dopo il suo breve pontificato, si è dimesso, pensando che così facendo avrebbe aiutato la Chiesa di Roma a ripulirsi da quella sporcizia e a risollevarsi da quel tradimento. Ma le sue dimissioni hanno invece consegnato ai nemici di Cristo le chiavi della barca di Pietro, in modo definitivo, abolendo l'ultimo argine che era rappresentato dal pontefice. E così, dal 13 marzo del 2013, quella casa ha inesorabilmente intrapreso la discesa ultima verso gli abissi del mare. Ora, terminata l'iniziale illusione, tanti si sono accorti che non solo il male non è stato estirpato, ma al contrario ha potuto circolare ancor più speditamente, nella consapevolezza che il male parte dal vertice. L'attuale pontefice romano non solo non ha curato alcunché, ma ha favorito l'espansione del male, che ora è ovunque e non si può più coprire, né curare perché non vi è la volontà di farlo, in quanto preda e fa autori di questo male. Tanti hanno compreso che nulla è stato cambiato, gli scandali finanziari persistono, la piaga dell'omosessualità dilaga tra i consacrati, cosiddetti, e l'abominio della pedofilia si sta manifestando in tutto il mondo. Ciò che è stato riformato è stato fatto solo e soltanto a danno di Cristo e dei Suoi insegnamenti autentici. Ma ora nulla si può più nascondere e tutto è sempre più manifesto. In tutto il mondo tanti stanno iniziando a parlare per denunciare il marcio che è ovunque. Bambini abusati, suore abusati dai sacerdoti, addirittura nei confessionali. Quella casa è divenuta tana del nemico di Dio e si deve aver timore ad accostarvisi. Ciò che succede nei meandri sotterranei di quella casa è inimmaginabile. Bambini abusati, innocenti immolati e sacrificati sull'altare consacrato allo spirito dell'Anticristo e al peggio non vi è fine. Per questo lo Spirito del Padre ha rivelato che vi sarebbe stato un tempo, ed è questo, che il suo popolo sarebbe dovuto uscire da Babilonia la Grande, dalla Chiesa di Roma, per non essere associati ai suoi peccati e ai suoi delitti. Nel libro dell'Apocalisse la caduta di Roma è annunciata. Babilonia, colei che da pure è divenuta impura, ha tradito Cristo, così come è annunciata la sposa nuovamente fedele, Maria, la Madre Chiesa, la Nuova Gerusalemme, voluta dal Padre, chiamata a preservare la purezza della fede del popolo di Cristo. Nella Chiesa di Roma non si crede più a Cristo come unico salvatore del mondo, come colui che solo salva. Non si crede più al Dio cattolico, non si crede più alla verità assoluta. chi viene dalla fine del mondo insegna una nuova religione mondiale e inclusiva, dove tutti, cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddhisti, tutti, sono allo stesso modo figli di Dio, considerati tali, quando invece nel Vangelo è scritto che solo chi riconosce Gesù come il Figlio di Dio è da considerarsi figlio, gli altri sono e rimangono creature fin quando non si fanno battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma in quella casa si dice che il comandamento a farsi battezzare, che è il proselitismo, è una solenne sciocchezza. Si dice che l'inferno non esiste. si dice che Cristo si è fatto diavolo, divenendo brutto da fare schifo, e che la sua via crucis, sua nostra via crucis, è la storia del fallimento di Dio. Era detto nella sua lingua madre, è il fracasso di Dio. Quindi non si è sbagliato a parlare. Da uomo e da cristiano vi chiedo, voi pensate che di fronte a tutto ciò il Padre possa veramente rimanere fermo, senza reagire, senza difendere il suo figlio e tutti i suoi figli vittime dell'abominio e della pedofilia che va avanti da decenni, nonostante i richiami e gli ammonimenti che per tempo e nel tempo la madre di Dio, pellegrina su questa terra, ha portato a tutti. Il Padre non è una statua, ha un cuore, è vivo. il Padre è buono e santo, ma è anche giusto. Il Padre ama i Suoi figli, ama i Suoi figli, ama i Suoi fanciulli. tutti questi orchi, questi traditori di Cristo e della cristianità veramente non conoscono l'essenza e la sostanza di questo Padre, non conoscono l'amore e la passione che anima il Suo cuore, che lo porta e lo porterà sempre a difendere i Suoi figli, che a Lui si affidano, che a Lui gridano, che lo invocano. le grida di questi fanciulli sono giunte al Suo cuore e ora il Padre reagisce e reagirà. Ora chiedo a tanti che ascoltano e ascolteranno queste parole. Voi pensate veramente che quando i traditori di Cristo invocano il Padre dicendo «Ora, Padre Santo, noi Ti preghiamo, manda il Tuo Spirito a santificare questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo». Voi pensate veramente che il Padre ancora possa esaudire quella preghiera e mandare il Suo Spirito in quella casa? No. È giunto il tempo, ed è questo, in cui il Padre, come era stato profetizzato, chiede al Suo popolo di uscire da Babilonia perché in quella casa non vi è più il Suo Spirito. Il Padre ha ritirato il Suo Spirito da quella casa per rendere giustizia ai giusti. Quella casa non ha voluto tagliare le membra del Suo corpo che hanno tradito Cristo, come Gesù ha ammonito di fare nel Vangelo oggi proclamato, ma quella casa ha coperto, favorito e promosso chi ha commesso tali crimini, abominevoli ad ogni livello, sacerdoti, vescovi, arcivescovi, cardinali e ora anche il Pontefice. Ora è l'intera Chiesa di Roma ad essere coinvolta. Per questo il Padre ha ritirato il Suo Spirito da essa. In vano ora i Suoi Ministri invocano il Padre chiedendogli di mandare il Suo Spirito a santificare ciò che si fa. Ora in quella casa nessun sacramento è più validamente impartito. Senza lo Spirito Santo nulla è più santificato, battesimo, comunione, matrimonio, ordine. Nulla agli occhi del Padre è più valido. Questa è la punizione del Padre per quella casa che ha tradito il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e l'ira del Padre verso quella casa si manifesterà sempre più nella speranza che anche la giustizia umana faccia il proprio corso e agisca con giustizia, senza più creare scorciatoie e favoritismi nella speranza che dall'interno si faccia pulizia. Dall'interno nessuna pulizia è stato dimostrato che si fa. E allora si agisca anche umanamente per rendere giustizia ai giusti, anche umanamente. Questo tanti figli e tante famiglie chiedono a coloro che amministrano la giustizia in questo Paese e altrove. E nessuno si illuda che il problema è solo nell'uomo che viene dalla fine del mondo come egli ha detto. Deposto quell'uomo ne arriverebbe un altro che porterà avanti tutto ciò che oramai purtroppo è divenuto sistema. Il male ha occupato ogni leva del potere di quella casa. E quel male stritola senza pietà a coloro che provano e proveranno dall'interno a resistere, come avviene a chi, con coraggio, ha alzato e alza la voce per non farsi travolgere da questa nuova dottrina anticristiana. Questo è ciò che vediamo tutti i giorni. Questo è ciò che capita a quei pochi che con coraggio hanno il coraggio di denunciare tutto ciò dall'interno. La maggior parte fanno silenzio e non parlano pubblicamente. Quei pochi che parlano sono fatti fuori, spiritualmente. E fosse solo quello. Il sistema è corrotto, irrimediabilmente. Senza l'aiuto del padre quella casa non potrà risollevarsi. E nessuno può imporre al padre la strada da seguire per risollevare la Chiesa di Cristo, perché il padre l'ha già indicata la strada da seguire per risollevare la Chiesa di Cristo. Il padre nel tempo e per tempo ha mandato nuovamente e direttamente suo figlio qui, nell'isola bianca, nella terra d'amore, nella nuova Gerusalemme, dove il padre radune i suoi figli fedeli e tutti gli uomini e le donne di buona volontà per donare loro la Sua misericordia che lenirà ogni ferita e farà nuovamente gustare a tutti la gioia di vivere in armonia con Cristo e Maria. Venite voi tutti, che siete stati brutalizzati da tanti traditori e da tanti orchi che nel nome di Dio hanno abusato della vostra fiducia e hanno violato la vostra intimità. Venite in questa terra d'amore per gustare la bontà paterna che nel bimbo divino si manifesta e sempre più si manifesterà per accogliere e ristorare tutti coloro che nonostante tutto in Cristo credono, per Cristo offrono e con Cristo vogliono vivere per l'eternità. E così sia. Grazie a tutti. Grazie.